La Camera di Commercio di Caserta ha promosso un'importantissima iniziativa per la sottoscrizione del codice etico per le imprese. Ancora una volta il presidente Tommaso De Simone che è qui con noi si è impegnato in prima linea per l'affermazione della cultura della legalità in un territorio dove c'è ancora molto da fare. Il codice etico è un ulteriore passo avanti su quel percorso della legalità in provincia di Caserta che è un grande tema che questa Camera ha voluto condividere con le associazioni di categorie. Ancora una volta insieme a tutte le associazioni di categorie e i sindacati di questo territorio abbiamo condiviso la necessità di questo passaggio necessario. Il codice etico non fa nient'altro che riprendere i grandi principi per il mondo delle imprese. Il rifiutare il contatto con le associazioni criminali, non utilizzare lavoro minorile, di non effettuare discriminazioni di sesso, di natura politica, di colore e quant'altro. Abbiamo chiesto alle associazioni di categoria di impegnarsi a far aderire alle proprie associazioni solo i soci che avessero sottoscritto con loro il codice etico. Quindi un ulteriore passaggio in avanti su questo territorio della provincia di Caserta. Naturalmente il codice etico è un momento di volontarietà, nessuna impresa è costretta a sottoscriverlo, però l'associazione può certo tenere in evidenza questo fatto. Chi non sottoscrive il codice etico non si attiene alle regole più elementari della convivenza civile, quindi affermazione di principi. Al codice etico seguirà la responsabilità sociale dell'impresa che è l'altra certificazione vera per le imprese. Immaginate il mercato americano è fatto di imprese che più dell'80% hanno al proprio interno una certificazione di RSI, come si chiama, come è definita tecnicamente. In questo territorio sono poche decine le imprese. Il 3 febbraio organizzeremo ancora un momento, quello dell'inizio di un percorso con gli stakeholder, riportatori di interessi, rappresentanti delle associazioni di categorie, sulla responsabilità sociale delle imprese. Questo percorso giorno dopo giorno sull'affermazione del principio della legalità sul territorio di Caserta che vede protagonista la Camera di Commercio per quanto riguarda il mondo delle imprese è certamente un percorso di crescita. Vogliamo recuperare quel 30% di economia che in questa provincia si dice essere appannaggio della criminalità organizzata, attraverso questi piccoli passi. Attraverso i piccoli passi immaginare un grande percorso, un percorso che ridia la dignità a questa provincia, a questo territorio che certamente lo merita. Presidente, lei in prima persona si è molto speso anche per un'altra iniziativa che va in questa direzione, il camper anti-usura e anti-racket, un'altra iniziativa che mira a un obiettivo che è prioritario della sua gestione, mettere in un angolo l'economia illegale e far sì che le imprese in un percorso di totale legalità possano crescere e creare sviluppo. Creare le migliori condizioni di concorrenza per le imprese vere, per le imprese che fanno economia vera su questo territorio. Il camper della legalità, gli sportelli anti-usura, la collaborazione con le associazioni, Libera, Agrorinasce e quant'altro che si occupano di beni confiscati, la sottoscrizione del codice etico, la responsabilità sociale dell'impresa. Sono solo alcune delle iniziative che questa Camera, in quel grande tema che è la legalità, sta cercando di affrontare col mondo dell'impresa, che ripeto in questa provincia sono 100.000 e meritano un posto di rilievo sull'economia. A fianco, non trascurando naturalmente, le attività istituzionali della Camera, quindi la fase certificativa. Oggi questa Camera è in grado di soddisfare l'esigenza delle imprese in maniera veloce, da un punto di vista certificativo, quindi del registro imprese. L'accompagnamento delle imprese sui mercati nazionali e internazionali, perché l'esport è un momento vero dell'economia, ne abbiamo già parlato, l'introduzione di quel modello nuovo che è il voucher e che ci sta dando grandi soddisfazioni in questo momento, da quando l'abbiamo lanciato, dal 1 gennaio 2012. E naturalmente l'altro grande tema, sul quale stiamo immaginando dei percorsi veri e reali, che è quello dell'accesso al credito. Quindi abbiamo immaginato che la legalità fosse certamente alla pari dei compiti istituzionali della Camera. E su questo stiamo andando avanti, e su questo immaginiamo di tracciare anche la rotta futura della Casa delle Imprese della provincia di Caserta. Il codice etico sottoscritto oggi tra le imprese, il mondo istituzionale e la Camera di Commercio, la cui attuazione sarà affidata all'ASIPS, è un'iniziativa che la Confester Centi aveva già introdotto nel 2008. L'azienda speciale della Imprese vuole ringraziare fortemente il viceprefetto Ciaramella, che è stato uno dell'insegnante alle stesse associazioni di approfondire il codice etico, che è nell'insieme di una cultura diversa, quella cultura che si chiama legalità, quella cultura che si chiama sapere stare in una società civile, e quella cultura che deve essere proiettata da un investimento futuro, che si chiama non solo sviluppo, ma si chiama proprio quell'aspetto culturale, che è qualsiasi forma di illegalità venca denunziata. Il codice etico è un documento giusto, legittimo, che è Confester Centi, approvato nel 2008 e che ha voluto, su un percorso unitario con la Camera, che diventasse un codice etico di tutte le imprese, per cui io mi auguro che questo punto di arrivo, che sarà fra poco, possa arrivare anche un giorno a essere l'eccellenza del nostro territorio. Il Consorzio Agro Rinasce non poteva non partecipare all'incontro di oggi per la sottoscrizione del codice etico presente l'amministratore delegato Gianni Allucci. Dottore Allucci, un altro passo importante per garantire più legalità in questa provincia? Assolutamente. Essere presenti sia come Mobasta che come Agro Rinasce per noi è un aspetto fondamentale. Come Agro Rinasce è ancora di più, perché Agro Rinasce lavora in un territorio notoriamente impegnato su determinati temi e notoriamente difficile ad affrontare determinati temi, perché quello che cerchiamo di far emergere è che a Casaldi Principe sostanzialmente esistono anche realtà positive, produttive, che lavorano in maniera legale e che producono anche prodotti eccellenti. In questo caso avere un codice etico delle imprese dà la possibilità a queste imprese di emergere, soprattutto in considerazione che sono note più le imprese che vengono interdette o confiscate che quelle invece che lavorano in maniera corretta e spesso ne pagano le conseguenze di un'immagine negativa che a loro invece non va proprio giù. Proprio su quello che diceva lei, non le sembra il caso, dopo i risultati molto importanti nell'ambito della repressione, arresti, confischi e sequestri, cercare di fare un salto di qualità parlando proprio di quelle cose positive? Ma io vado oltre perché quello che noi stiamo facendo è sicuramente un fatto positivo perché dà la possibilità comunque di creare dei posti di lavoro e lavoro nel settore sociale alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati. In questo momento noi abbiamo avuto un'azione straordinaria del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia nel contrasto alla criminalità organizzata. Ci aspettiamo, non dico la stessa azione straordinaria, ma comunque un'attenzione verso il nostro territorio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e da parte del Ministero dell'Economia, perché in effetti noi quello che cerchiamo di fare è in piccolo, ma avremo bisogno di una maggiore attenzione, così come l'è stato fatto per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Giustizia, una maggiore attenzione sui temi economici e sociali, perché il nostro obiettivo è quello che questi clan che oramai vengono quasi smantellati non si ricostituiscano più. Quindi quello che noi dobbiamo fare con queste attività, ma anche con altri che auspico si possa mettere in piedi, è quello di rallentare il ricambio generazionale che caratterizzano i clan. Ovviamente il percorso per sradicare questo cancro è ancora lungo, sarebbe un errore gravissimo abbassare la guardia in questa fase. Certo però le associazioni, il Consorzio Agro Rinasce, Mobasta, Libera, il Comitato Don Peppino, insomma ne dimentico molte perché negli ultimi anni molte ne sono nate, potrebbero proprio svolgere questo ruolo socio-culturale ma anche economico. In un'economia sviluppata come quella del nostro periodo una fetta dell'economia è oramai fatta da economia sociale e oramai noi stiamo molto sviluppando questo settore dove prima a Casal di Principe non c'era nessuno, invece adesso ci sono molte realtà associative, molte cooperative che stanno creando lavoro, stanno creando prodotti che vengono dai terreni confiscati alla Camorra, stanno creando servizi per le persone che sono più sfortunate di noi e su questo tema noi vogliamo andare sempre di più, crescere sempre di più, però è fuori dubbio che l'economia sociale può riguardare un 10% dell'economia complessiva del territorio. Noi dobbiamo puntare anche sulle imprese nel settore delle costruzioni, nella distribuzione, nel settore agricolo, dobbiamo fare in modo che queste imprese, quelle là che lavorano in maniera anche solitaria, in maniera silenziosa, emergano e facciano sentire anche la loro voce, la loro presenza su determinate questioni e su determinati temi. Anche Camilla Bernabè, segretario provinciale della CGL Caserta, presente all'iniziativa di oggi alla Camera di Commercio. Segretario, il ruolo dei sindacati in questo settore è fondamentale? Certamente, noi abbiamo ben accettato l'invito della Camera di Commercio a partecipare alla costituzione di questo codice etico per le imprese. È un punto fondamentale che noi riteniamo vada ulteriormente a salvaguardare i lavoratori su questo territorio, perché parlare di codice etico per le imprese vuol dire fare una vera e propria guerra al lavoro nero, al lavoro per i minori, che sono i temi fondamentali per un'organizzazione sindacale. Da parte della Camera di Commercio è partito un segnale importante, negli ultimi tempi gli operatori hanno mostrato più sensibilità rispetto a queste tematiche e si sono impegnati anche nella lotta alla criminalità favorendo anche lo sviluppo del territorio. La politica è più assente, lei che giudizio ha? Sicuramente con la Camera di Commercio nell'arco degli ultimi due anni, io le posso parlare degli ultimi due anni, abbiamo intrapreso una serie di progetti insieme, come quello del camper della legalità, un camper che insieme a tutte le associazioni, sia imprenditoriali che lavorative, ha girato per tutti i comuni della nostra provincia rispetto ai temi dell'usura, quindi uno dei temi fondamentali nel settore del lavoro, delle imprese, che ha visto tutti i soggetti per quanto riguarda il settore lavorativo impegnati. Sicuramente c'è un'assenza completa della politica rispetto a questi temi. I temi della legalità non sembrano interessare alla politica del nostro territorio ed è anche questo poi il motivo, la conseguenza per cui ci troviamo così come siamo sotto certi aspetti di moralità vera e propria che ormai ha distrutto il tessuto sociale di questo territorio.